Dal testo alla rappresentazione in difesa dell'ambiente e l'attività del modulo finanziato dal programma operativo nazionale competenze per lo sviluppo all'istituto comprensivo statale di Praia Mare, destinatari gli alunni della scuola secondaria di primo grado, circa 20 appuntamenti per apprendere le tecniche del teatro e ancora sviluppare una coscienza civica, per loro un tutor d'eccezione. Mira a costruire un progetto che abbia per tema l'ambiente, quindi riuscire a regalare ai ragazzi, ai giovani di Praia e del circondario i presupposti primari per una corretta gestione ambientale, la raccolta differenziata, i rifiuti, che cosa sono le discariche, che cosa sono le fabbriche che lavorano, rifiuti industriali e tossici, come si differenzia, come si ricicla, le malattie che nascono per problemi di natura ambientale. Bene, questo è il tema e altro tema importante però è lo studio del codice del teatro, cioè questi ragazzi grazie a questo laboratorio si mira a farli diventare più sciolti, ad irrobustire un po' la voce, a farli riuscire nell'arco di poco tempo a organizzare un discorso, ad essere maggiormente rispettosi di alcune regole, sempre conservando la vivacità e siamo qua a lavorare e alla fine costruiremo uno spettacolo che sarà visto qui a Praia, inviteremo la cittadinanza, i genitori e tutti. Sperimentare con i ragazzi nuove forme espressive attraverso le diverse attività didattico-educative per il dirigente scolastico Patrizia Granato è questo l'obiettivo delle giornate. È veramente un progetto interessante perché va a valorizzare l'ambiente, il territorio, la riqualificazione del tessuto sociale e ambientale questi sono valori fondamentali per i nostri alunni. Grazie. 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 Grazie.